Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi, domenica sedicesima del tempo per annum, la Chiesa ci dà la gioia, come ogni domenica, ogni festa, di dare gloria al Signore e questa gloria che noi diamo a Dio deve essere un po' come il pane quotidiano per il cristiano, che non può e non deve vivere senza Dio, deve vivere in comunione con Lui e la grazia di Dio, come abbiamo visto tante volte, vuole entrare e permeare la nostra vita in tutti i suoi aspetti, anche negli affetti, nei sentimenti. Noi abbiamo tre sorgenti di conoscenza nella nostra vita umana. La prima fonte di conoscenza sono i sensi. Attraverso i sensi noi percepiamo il mondo che ci circonda. Il bambino, già nel grembo materno, con i suoi sensi, avverte ciò che avviene per lui e ciò che avviene attorno a lui. I sensi sono una via di conoscenza. Una seconda via di conoscenza è la nostra intelligenza, che sa andare anche al di là dei sensi, delle esperienze sensibili, perché la mente può collegare insieme i concetti, le idee, tirar fuori dei discorsi e fare delle deduzioni. Quindi andare al di là della semplice esperienza sensibile, benché anche le idee spesse e volentieri sono legate alla conoscenza sensibile. Io darò una penna e questa esperienza mi dà il concetto di penna, per cui io poi userò questo concetto per tutti gli oggetti che avranno questa funzione di penna, la chiamerò penna. Quindi abbiamo, prima di tutto, i sensi in secondo luogo. Abbiamo come fonte di conoscenza l'intelligenza. Terza fonte di conoscenza è il cuore. È il cuore. Una madre sente che c'è qualcosa. Ogni tanto incontro le persone che mi dicono che sentono che c'è qualcosa. Lo sento col cuore. No, non vedo. L'intelligenza non vede, quindi non potrebbe accettare. E tante volte queste cose sono reali, perché sono ispirazioni del profondo dell'anima. C'è quella conoscenza interiore che viene dallo spirito. E lo spirito ci rivela cose che a volte la conoscenza, la mente non riesce neanche a pensare. Quello che ha fatto Gesù Cristo, gran parte del Vangelo, è conoscenza di Dio che ci viene dallo spirito. Quale intelligenza potrebbe mai escogitare l'idea che Dio ti ama tanto ad andare in croce a morire per te? È una rivelazione. È qualcosa che va al di là dell'esperienza sensibile dell'uomo. Quindi noi abbiamo una terza fonte di conoscenza, che è il cuore. E il cuore non parla con i concetti, parla invece con i gemiti. Parla con le espressioni. Quando un amico incontra un altro amico che non vede da tanto tempo, fa un'esclamazione, ah, 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 perché le parole non servono, le parole non riescono a disprimere tutta l'intensità della vita dello spirito. così la realtà stessa dell'amore, parla di quell'amore non sensuale, di quell'amore profondo dell'anima, e non ci sono parole che riescano ad esprimere adeguatamente questa realtà. Per questo l'amore viene capito più con l'esperienza che con le descrizioni. Sant'Ambrogio di Milano, quando parla del battesimo, dice ai cristiani che erano stati battezzati, io prima del battesimo potevo farvi una trattazione sommaria di ciò che era il battesimo, ma meglio è da preferire l'esperienza che ti tocca piuttosto che fare un discorsino, perché quando sei stato immerso in quella grazia di Dio, hai sperimentato in te una liberazione, non hai avuto una sensazione, hai avuto una vita, hai avuto una corrente di grazia che ti ha avvolto. Ecco allora, nella seconda lettura di oggi, San Paolo, parlando ai cristiani, parla di quella preghiera secondo lo Spirito, di cui parla anche poi nella lettera di Efesini, di cui parla anche l'Apostolo San Giuda che dice pregate secondo lo Spirito e San Paolo di Efesini pregate con ogni sorta di preghiera, ma nello Spirito, cioè deve pregare l'anima, deve pregare il profondo e del cuore. E lo Spirito parla al nostro cuore quando noi ci apriamo alla parola di Dio e quando noi professiamo la parola di Dio, la parola di Dio dice che tu in questo momento sei immerso nel cuore di Gesù, le fiamme dell'amore di Gesù sono dentro di te, sono atterne a te, i tuoi sensi non percepiscono, la tua mente ragiona, ma se ti abbandoni, il cuore percepisce questa realtà, perché tu conoscerai questa realtà per via di spirito, non per via di sensazione. L'abbiamo ricordato più volte come l'Apostolo Paolo nella lettra ai Corinti parla di questa conoscenza, dice nessuno conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui, così nessuno conosce i segreti di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi abbiamo ricevuto lo spirito di Dio per conoscere tutto ciò che lui ci ha donato e ci ha rivelato. Lo spirito parla, il nostro spirito e attesta che noi siamo figli di Dio e lo spirito dice al nostro spirito che noi siamo destinati alla vita eterna. Lo spirito attesta al nostro spirito che l'altro è un fratello, un figlio di Dio anche se sbaglia, anche se fuori strada, è un figlio di Dio e dobbiamo ricercare il suo bene, la sua salvezza, avvolgerlo nell'amore di Dio, non mai nell'odio, non contraccambiate mai il male col male, ma vincete con il bene e il male e quello lo spirito, fratelli, ci rivela la realtà di Dio e Gesù nel Vangelo ci parla della parabola della zizzania. Domenica scorsa ci ha offerto la parabola del seminatore, ci ha spiegato che questo seme è la parola di Dio, il seminatore è il figlio dell'uomo e il terreno è l'anima dell'uomo e questo seme è la parola di Dio che è efficace, produce effetti a seconda però della disponibilità del terreno, della condizione del terreno, il terreno sassoso non darà mai frutti, così il seme caduto lungo la strada viene beccato dagli uccelli, quello che cadù sotto le spine viene soffocato, quello che cadù sul terreno dissodato, concimato, innaffiato, quello produce frutti abbondanti, così la parola di Dio seminato un giorno nel cuore di Sant'Antonio Abate che sentì in chiesa che Dio Gesù aveva detto se vuoi essere perfetto ma vende quelle che hai dalle ai poveri poi vieni e seguimi Sant'Antonio Abate lo fece sappiamo che tipo di santo è sorto fuori che dopo millenni trionfa sempre è una luce per l'umanità perché in lui la parola di Dio ha portato frutti abbondantissimi e duraturi come dice Gesù voglio che il vostro frutto sia abbondante e sia duraturo bene nel parabolo di oggi Gesù parla della zizzania dell'erbaccio seminato nel campo buono dal nemico e così nel mondo noi abbiamo tanto bene ma abbiamo anche tanto male tanta cattiveria tanti inganni ai nostri giorni poi i mezzi di comunicazione sociale sono in qualche modo asserviti a questa propaganda dell'iniquità e il Signore cosa dice verrà un termine per la zizzania verrà un termine nel frattempo lasciamo che crescano insieme però al momento del raccorto ci sarà un termine e verrà bruciata tutta questa cattiveria tutta questa iniquità è la promessa che fa Gesù nel Vangelo non nasconde però nei tempi difficili non nasconde le sofferenze che ne possono avere fuori ma Gesù annuncia il trionfo del regno di Dio che non risponda all'iniquità con la violenza con la cattiveria risponde con la misericordia con la pazienza con l'amore con il perdono con l'amore sincero per cui una volta fratelli due martiri furono condannati a morte ma il boia tendennava e questi dissero al boia al templo di Diego Lissiano dice vedi potresti incorrere a qualche brutta sanzione allora fai il tuo dovere non scapparono non chiesero si preoccuparono della vita dell'altro ma si può dando certo lo spirito santo fa questo e altro ecco allora il signor ci assicura che il male avrà un termine anzi ha un termine può durare un po' di tempo ma il male distrugge se stesso prima di tutto il male distrugge che lo fa e il male ha un termine mentre i beni della vita eterna durano in eterno come dice Gesù nel Vangelo cercato quei beni che durano per la vita eterna signore dacci sempre questi beni oggi ne vediamo nei tuoi santi frutti che la tua parola ha portato in loro che durano sempre continuano a crescere questi frutti nonostante lo scorrere dei secoli guardiamo la Vergine Santissima più passa il tempo più amata più la sua intercessione la sua presenza si fa sentire in mezzo agli uomini così tanti santi che sono vissuti nel passato fanno sentire la forza del loro spirito signore dacci sempre questo spirito e in mezzo alle prove che stiamo attraversando donneci quella luce donneci la visione di quando tu stai realizzando il termine del peccato e il trionfo della vita eterna Ergene Santissima tu oggi dall'alto vedi questa realtà hai richiamato tante volte noi figli tuoi e non ci hai abbandonato continui a seguirci in questi tempi rivelaci la bellezza di questa potenza della vita eterna che non avrà mai fine e abbi misericordi di tutti quei figli che si trovano nella confusione e nel peccato a Gesù glorio onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e questa luce fratelli riempie il vostro cuore la vostra vita e vi faccio portare frutti abbondanti abbondanti benedizioni Amen e siate tutti benedetti grazie grazie grazie